ciao amici youtube bentornati in questo nuovo video oggi siamo su un kai star rail è arrivata robin uno dei personaggi più belli dell'arco di penaconi personalmente per me al punto tale che questo personaggio ha ricevuto addirittura la possibilità di diventare un artista riconosciuto a livello mondiale e ad avere una sua playlist su spotify riconosciuta che terremo in sottofondo durante queste pool per portarci fortuna è un unico video in cui ci saranno le mie e quelle degli altri ragazzi hanno pullato il live io devo pullare l'obiettivo è prendere soltanto lei perché nella seconda parte di questa patch arrivano dei pezzi grossi molto grossi but hill e fushuan e vorrei provare a prendere sia lui che lei follia lo so però mai dire mai abbiamo il 50 e 50 partiamo da pt alto se dovessi vincerlo tiro qualche altra multi perché sia ania che shuai non sono costellate ma poche cose e se invece lo perdiamo ovviamente pull finché non riesco a prenderla quindi auguratemi buona fortuna e vi auguro buona visione e ci vediamo al prossimo video a 56 57 priorità dei quattro stelle gli altri due mi vanno bene tutte ma mi vanno bene tutte cioè se prima ania prima shuai indifferente 58 hai non l'ho detto ma tanto faccio vedere dopo l'avete visto prima mentre scorrevo 31 pool anche sul permanente che tireremo tutte dopo 59 quindi tireremo anche quelle ok e 60 tre multi sul permanente lì magari riusciamo a costellare qualche quattro stelle che non ho finito perfetto siamo a 60 tondo prima multina di oggi andiamo a 70 magari esce qua e mi risparmio una multi assolutamente no mai dire mai allora speriamo dai una bella shuai o una bella ania o anche entrambi se no off banner guai nei fan prima di tutti quella che mi interessa di più mi mancano le ultime due sul constellation per chiuderla la gioco nel team di akron quindi mi farebbe molto comodo quattro stelle eh vediamo un po' una pool che oddio non mi dispiace nemmeno tantissimo sinceramente per quello che arriva sono anche contenta se oggi facciamo tutte pool sono sincera sapendo quello che arriva io sono molto infatti da una parte ho rosicato che questi personaggi qui siano qua e non nel banner dopo perché nel banner dopo volendo prendere sia lui che fu shuan va andrò all in quindi è ovvio che mi sarebbe piaciuto di più avere quei quattro stelle nel banner in cui voglio fare all in qua se lei la trovo mi fermo quindi mi trovo un po' in difficoltà per quello capito cioè se dopo facevo all in mi mettevano tutti i personaggi mi mancavano li costellavo qua avrei preferito roba già portata su o che mi interessava poco così che se non mi usciva niente ciao è invece andata così comunque siamo a 70 quindi faccio le quattro singole così che a me ne andiamo poi a 74 e tiriamo la monti allora 71 72 oddio no così non me l'aspettavo meglio perché prima però no non così oh mio dio il mio sesto vinto di fila ci credo il mio sesto vinto di fila ho finito il mio sesto vinto di fila ci credo non ci credo che bello troppo contenta no 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 zero zero qua proprio zero non ero per nulla convinta poi a 72 ho anche risparmiato la multi no troppo felice pure con il ritornello pure con il ritornello bene sono troppo contenta allora va bene sono contenta direi molto allora siamo a pt1 cioè pt0 in realtà ce l'abbiamo adesso faccio fino a pt30 ah faccio fino a pt30 faccio tre multi per vedere se mi escono delle signorine e poi tiriamo appunto una multi nel banner della lightcon facciamo così queste tre multi le faccio comunque perché comunque voglio vedere se mi esce qualcuno e loro due visto che l'ho vinto avevo detto ve le tiravo e poi una multi nel banner delle lightcon perché vorrei vedere se mi esce l'arma e poi siamo a posto allora vediamo siamo tanto siamo a zero quindi andiamo a 10 io vorrei almeno un'altra shuay per farle i due per rendere usabile e se mi da le due ania e la finisco sarei contenta l'obiettivo di oggi sarebbe stato finire ania che me ne mancano due perfetto la lightcon e una shuay non erano grandi richieste però facciano loro vedano loro che li vogliamo dire bene multi lightcon multifortunata 20 ok no non mi dare 5 stelle per favore ci teniamo per 4 stelle 4 stelle niente non sono destinata a costellare loro vabbè però se mi da la lightcon di là delle signorine sono contento uguale poi robin l'ho vinta potevo dover fare un pt intero quindi mi va bene anche così ok e ultima multina magari ci me lo dai doppio il 4 stelle visto che è la prima singola e anche l'ultima bene liscio ok così ci fermiamo nel banner dei personaggi a pt 30 non si rischia altro grazie al cielo belli fermi impalati così perfetto e 5 di ania almeno questa almeno questa e 5 di ania una grazia dall'alto ce l'abbiamo se me ne dai due magari la finisco lo so pretenziosa pretenziosa la signorina però almeno le 5 di ania ce l'abbiamo volevo anche la e6 prova a tirare la singola perché è il 4 stelle garantito quindi questo è un 4 stelle questo è un 4 stelle garantito magari è ania o magari è shui si si o ania o shui e 2 di shui e 6 di ania vediamo perfetto the most welcome you va bene tiriamo la multi qua qua quanto siamo 26 perfetto che ho anche quelli da tenere a parte per poi vai e multi qua goriardica per la light con delle signorinelle datemi la light con delle signorinelle si si infatti sono 4 di 3 multi sono quelle che ho fatto ora france ce l'ho praticamente lì staccate vai la light con delle belle vai l'altra che volevo l'altra che volevo che ce l'ho finalmente refine si 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 oh va bene almeno ce l'ho nel mio account non va da nessuna parte per l'ultima singola della multi con pure il refine di luosha grazie quello che non mi ha dato il banner dei personaggi mi avete dato voi grazie baci vorrei clara se proprio vorrei clara 10 clara liscia se non clara perché è liscia l'ultima ania l'ultima ania o se no qualcun altro che appunto non ho ancora finito di costellare però ania più di tutti perché i guani ai fan ania e guani ai fan una pull lei mi sarà uscita 800 mila volte bellina però 20 ok la polla è fisica la signorina però non volevamo lei lo sappiamo che non volevamo lei vediamo chi abbiamo qui me ne puoi dare anche due ogni tanto solo il banner delle light come ne ha dati due ancora ragazzi io ho perseguitato da the malls io ho perseguitato dalle talpine 30 che c'è se le talpine che mi perseguitano mollatemi non ci vengo con voi ma mi metti bambini sono i miei compagni d'asilo raga sono i miei compagni d'asilo ok si meglio di un personaggio i miei fototissimi refine per luocia raga sono sta per un anno senza non mi usciva sto coso maledetto cazzo i miei refine sono più contenta per questi che per la costella c'è dove sta sto porino c'è ancora il refine in due e nance mammina ce ne abbiamo due io non ci voglio ridere ragazzi oggi è pasqua oddio me ne manca uno solo bravi bravi grazie accoglie no dai riccardo smettila bello pulla così divertenti scaricherai il gioco solo per questa cosa per forza ma funziona anche con altri personaggi o solo con aventure con tutti guarda tutti eh sì anche shuwei alla cresta tutti tutti però aventure è proprio bello secondo me sta meglio shuwei perché avendo guardala sventola sì anche parecchio sventola che roba perché non lo rifa uccello rifallo ecco siamo a peti 76 ragazzi quando vuoi avanti robin ok qui c'è sì c'è c'è evidente cosa ti stupisci cosa ti stupisci dai speriamo sia la prima dobbiamo vedere il simbolo dell'armonie simbolo dell'armonie schifoso non direi schifoso a pop è tanto che la seconda e invece no 79 no oh 80 non è vero nooo armonie stavo già per festeggiare perché mi vengono sempre per il culo ti fanno sempre per il culo a te non ci voglio credere anche l'altra volta dai c'è anche robin no ragazzi basta sta rotto ragazzi riccardo becca sempre le cose il path giusto giusto becca sempre il path giusto ora ma il minimo esce all'81 vediamo ok no ce l'abbiamo almeno non si fa oltre l'80 dai simbolo dell'armonie ma che sia l'armonie giusto perché sappiamo bene che questo gioco purtroppo ci inganna molto e proprio gli ho ingannati style dai allora 71 72 73 74 70 oh non ci credo non ci credo non è vero maledetto vecchio maledetto mi piace io ve lo oggettivo vai pigliamocela tanto è qua non si va oltre la 76 visto c'è la multi per topaz l'avevo detto l'avevo detto c'è la multi per topaz allora arce è morto nel frattempo si è morto arce in realtà sto guardando che effettivamente ho vinto anche la scommessa quindi va bene così vabbè io mi sento senza parole 67 68 69 meno male non era qui meno male 70 71 72 73 74 75 e ce l'abbiamo e ora è 1 76 no una polla una polla vadino vadino e altrimenti piango let's go 5 stelle c'è 5 stelle c'è 75 76 77 yes sì dai l'abbiamo vinto oh che bello bellissima e Ali io e te le vere amanti di Robin non ha voluto appurare nessuno tranne praticamente noi let's go prontissima let's go multi del 5 stelle ce l'abbiamo può essere anche la prima singola quindi te concentrazione simbolo dell'harmonie giusto dai 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 allora 65 66 67 68 68 sì vinto anche la lightcon rialzavo il volume yes ho vinto anche la lightcon raga oh 50 aiuto oddio 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 raga se per caso lo perdiamo con gli style glitter la prendiamo comunque ma non ci pensiamo perché la vogliamo vinto quindi questa era 41 42 43 43 44 45 45 46 47 48 via 49 49 49 49 49 49 51 50 50 51 50 53 53 45 54 53 54 Grazie a tutti.